C'era una volta una bella ragazza chiamata a televisione, tutti la corteggiavano, tutti volevano portarsela a letto, pensa che gli uomini per lei avevano finito col trascurare il teatro, il cinema e purtroppo perfino l'ha dettata un'altra. Un bel giorno però, televisione conobbe un giovannotto che si chiamava computer, entrambi avevano uno schermo, dei tasti e degli altoparlanti, lei la televisione l'ha suggestiva con un starino chiamato Recomango e lui invece aveva una scatolina grigia, eccola qui, che si chiamava, mouse, va bene, va bene, però un po' vissero ognuno per conto su, poi si sposarono ed ebbero un figlio a cui fu dato nome, internet. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!